Oltre Povo Ghera parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone per informazioni contatta ora al numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing.com Il 30 luglio dalle ore 10 alle 18.30 presso il Circolo Culturale Lo Stanzone in via 20 Settembre 92 si terrà un incontro intitolato Cuori e Mani Giovani per trasformare il mondo. Di che cosa si tratta? Allora ragazzi siete tutti invitati domani appunto il 30 luglio a venire a riflettere insieme a noi noi ed altri giovani in particolare su quale sia il vostro ruolo nella società. Vogliamo cambiare il mondo partendo dalla nostra realtà locale quindi ci saranno momenti di creatività momenti in cui rifletteremo insieme e momenti anche pratici in cui proveremo a metterci alla prova per vedere quali sono le potenzialità che voi avete, come metterle al servizio della comunità partendo da Voghera, dalla nostra realtà locale. Quindi se siete curiosi, se volete veramente dare una svolta, siete stufi e scontenti di quello che sta succedendo intorno a voi e volete veramente cambiare qualcosa, venite a trovarci e vedrete così vi parleremo meglio nei dettagli di cosa si tratta. L'evento è organizzato dalla comunità internazionale Baha'i però in collaborazione con giovani che vengono da ogni estrazione, ogni realtà. Quindi ci saranno giovani musulmani, giovani cristiani, giovani atei, giovani non credenti. Quindi è veramente un modo per riflettere insieme indipendentemente da quali siano le nostre caratteristiche, le nostre radici e per veramente creare intanto legami di amicizia e fare qualcosa, ripeto, soprattutto nel campo del servizio e un servizio che poi sarà rivolto alle generazioni più giovani di voi, quindi i ragazzi che sono delle medie, per accompagnare anche loro in questo percorso di capire chi sono, capire quali sono le vostre risorse, le vostre potenzialità e veramente cambiare la realtà intorno a noi. Vogliamo fare altri incogni? Stiamo cercando di creare un movimento giovani, ovviamente partendo da Voghera, ma naturalmente aperto a tutti i ragazzi della zona, può essere della provincia pavese, insomma dei vari paesini eccetera. Sicuramente avverranno altri incontri, ci saranno appunto delle attività che faremo, chiamate attività di servizio in particolare che riguardano questi gruppi giovanissimi, questi ragazzini più piccoli che sono appunto dell'età delle medie che vogliamo appunto diciamo creare e quindi sicuramente sentirete ancora parlare di noi. Se però siete curiosi, se non riuscite anche a venire magari tutta la giornata, anche solo metà giornata, fatevi vedere, venite e vi racconteremo meglio diciamo di persona i dettagli. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.